Benvenuti ragazzi a questa nuova serie su The Long Dark. Iniziamo una nuova run di Voyager su Mystery Lake, SML, Snow Walker, Fire Master, Cold Fusion e Bob Smarts. Alla prossima. Everything is going as planned. Ok, location facile da spavere. Oh mio Dio. Un secondo. Ok. Questo è meglio. Ora puoi sentire i suoi in-game. Da che siamo qui, cominciamo a loottare il luogo. È un'importante cosa da fare. Ok. Ok. È un'importante. È un'importante. È un'importante. Ok. 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 We will come back here for sure. Ok. 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 E' il primo giorno, e' ancora la mattina, è meglio restare in fuori mentre possiamo non per l'ora, perché stiamo facendo la frase fortunatamente abbiamo qualche più migliore è molto caldo 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 è molto caldo